È stata una bella giornata di sport per tutti, quella svoltasi sul lungomare di Bari è stata la festa di epilogo dell'edizione 2017 di Rotta verso Bari, quest'anno evento della giornata europea dello sport, lezioni prova di canoa, canottaggio e vela a cura del CUS Bari per piccoli e grandi sotto la guida di esperti e tecnici del CONI. Il progetto è stato ricordato dal presidente del CUS Bari Giuseppe Seccia e dall'assessore allo sport Pietro Petruzzelli ha dato la possibilità anche quest'anno a oltre 800 bambini e ragazzi di seguire corsi gratuiti di vela, canoa e canottaggio. Oggi è l'epilogo della seconda edizione di Rotta verso Bari, questa manifestazione fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale in accordo con i circoli nautici baresi per incentivare gli sport nautici nella città di Bari, per aprire finalmente la città di Bari al mare, cosa che pur essendo una città di mare non avviene. Bari come si dice sempre è rivolta alle spalle al mare e noi stiamo facendo di tutto per far rivoltare le persone verso il mare e avvicinarli agli sport nautici che sono una delle prorogative della nostra città. Il progetto Rotta verso Bari è un progetto bello, un progetto che piace a tutti non solo quando lo vivono soprattutto ma anche quando ne parlano perché l'idea che si possa anche attraverso lo sport consolidare il rapporto tra la città e il mare è una bellissima idea. Quest'anno hanno partecipato più bambine e bambini rispetto a quelli dello scorso anno, a me piacerebbe che alcuni circoli facessero uno sforzo e provassero anche a dare la possibilità ad alcuni bambini o bambini con particolari tipi di disabilità di provare gli sport nautici. Dunque una città quella di Bari che torna a guardare al mare.